Ho avuto questo grande desiderio di creare da sola delle rendite e così mi sono iscritta all'Energetic Club per questo motivo perché comunque avevo programmato di sposarmi, non c'avevo un euro e quindi ho detto forse che mi viene a fare qualcosa e quindi sono riuscita a sposarmi, sperando molto di più di quello che avevo preventivato senza problemi e ho chiesto un prestito per creare un laboratorio creativo mio, solo mio e quindi questo è tanto